Lui è Carlo e ha un'impresa. Carlo è preoccupato perché deve pagare per la formazione continua in azienda, ma ancora non sa che può averla a costo zero. Come? Semplice! Dal 1978, le imprese private destinano lo 0,30% dei contributi IMSS come contributo per la disoccupazione involontaria. Lo 0,30% è totalmente a carico del datore di lavoro. Viene obbligatoriamente versato per impiegati, dipendenti del settore privato, operai, apprendisti, operai agricoli, soci lavoratori delle cooperative, dirigenti, lavoratori di imprese municipalizzate, quadri, dipendenti del settore artistico. Dal 2003, i datori di lavoro possono chiedere all'IMS di trasferire lo 0,30% ad un fondo interprofessionale. Le imprese che non aderiscono ad un fondo versano comunque il contributo all'IMS e il trasferimento dello 0,30% ad un fondo non comporta nessun costo per le imprese e sarà utilizzato per finanziare la loro formazione continua. Così l'impresa cresce, senza spendere nulla. Interessante, vero?